Ecco No si mi da comunque quindi 13 su 15 Vabbè Tanto dobbiamo passare a darlo 3 Dobbiamo finire fight Normal E che schifo E ragazzi qua non abbiamo I rai master questa è grafica 360 Mamma mia Oh è tu Rally Eh Eh Dovano fare tutta la trilogia Eh Non c'erano i suoi Piccola azienda indie Microsoft No ma che arro ha perso un sacco di Adesso non conta un cazzo Un cazzo enorme No Tu sei quello oscurato Cosa vuol dire Ah vedi che ti ricordi che eravamo sull'astronave L'astronave sta precipitando Noi ci siamo lanciati così E siamo sopravvissuti Ma che dialogo è Ma cosa vuol dire Eh vuol dire che Ah sei probabilista perché hai culo Sì 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 io ti ho scelto perché di quello oscurato Fine Quindi sapevo che andavamo avanti Solo andando avanti a culo Ma che cazzo è Top Poi oscurato una volta Non hai detto che oscurerai per sempre No no lui aveva proprio lo streak che oscurava eh Ah ok È come la vita reale praticamente Esatto Non è caduto ai due chilometri E' facile Stai fermo Non è caduto ai due chilometri Vivo eh Perché c'è lo scudere energetico Però Perché c'ho il braccio Eh perché sei frizzato Sei in stasi tipo C'è la mano che l'ha frizzata Non lo so Sgt. Major Radeo per Vito Ma come è possibile Ma come è possibile Che è rimasto su ai chari No Ma, ma che c'è Adesso abbiamo i sanguei che ci aiutano